Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per giovedì 29 ottobre. Bene, dopo la fase piovosa dei giorni passati, Solitaria si allungherà, ma solo per un giorno, l'anticiclone del Danzolo e quindi bel tempo, temperatura è gradevole, ma attenzione, la comparsa dell'alta pressione favorirà il ritorno delle nebbie, soprattutto sul nord Italia. Andiamo con ordine, come potete vedere qui da questa immagine, delle nubi al sud, la tipica nuvolosità bassa sul Ligure, la cosiddetta Maccaia, con piovigine appunto sulla Liguria e sull'alta Toscana qualche pioggerella anche sulla bassa Calabria Tirenica. Temperature massime, diciamo, in rialzo, intorno a 16-18 gradi al centro nord, 18-22 al sud e sulle isole maggiori. Attenzione alle nebbie, soprattutto sull'este della Lombardia e sul Ferrarese. Per quanto riguarda i venti, attenzione, i venti di una certa intensità, intorno a 70-80 km all'ora sulle isole maggiori e sulla Calabria Tirenica. Termino qui un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.